Come tu sai, questo è un bilancio che si è venuto al 31 dicembre e al 31 dicembre, già ci manca un mese, se mettevamo 2.000 euro, quanto sperdavamo 6.000 euro? No, non c'è sempre, non c'è sempre, ma noi per 1 dicembre dobbiamo sperdere questi soldi, se mettevamo 2.000 euro, e quanto scuderemo?